Perché pannoloni per adulti? Cioè, quante volte effettivamente succede che tu vai a letto appena ti sistemi devi pisciare, dici porca troia. Bro, ma è pannoloni da anziani? Ma sono una svolta, zio. Ma frate, ma come sei arrivato a questo punto? Immagino Anas a fianca alla fidanzata che è nudo con il pannolone. Pisce, scoletta, caga, fa il guano. Poi, scusami, tu pisci e poi ti do, ti devi togliere comunque il pannolone, fai un po' di borotato. Il colettino rosso. Come vi sembra la web degli NPC su TikTok? È terribile. Hai visto quello che lo continua a fare? I genitori arrivano tutti preoccupati e lui continua a fare tipo I'm CJ from Grove Street. A me piace. Non li fanno, no! Perché ti piace? Terribile. Perché la seguo da un anno. Ma sì, ma non esiste da tipo due settimane. No, la seguo Made in Ohio da un anno. E cosa fa? Made in Ohio. E c'era l'altro che c'era Bro, un anno fa lo seguivo e mi piaceva Made in Ohio. Non è la cinese che fa... No, è Made in Ohio. Ma penso che da un anno lo fa. Ice cream good. Eh, anche ho visto quello. Io quando ho visto sta roba ho proprio pensato sono arrivato a quell'età in cui non capisco più. Solo che mi fa... Serio da quell'età? In cui non capisco. Di solito li capisco i trend. Magari non li condivido, ma li capisco. E' bravo, bro. Made in Ohio. Ma quindi tu non hai visto la nuova wave, bro? La nuova wave. Quella di fare sta roba per otto ore di fila a caso. L'hai vista? Bro, come fai a dire che ci sta? È tipo autismo, zio. Ma non è vero. Fai i soldi, lo fa. Sì, ma... Bro, è assurdo. Sì, diciamo che è uno dei lavori peggiori del mondo se la metti da questo punto di vista. Fai l'NPC. Minchia, stare sette ore a fare... Ice cream good. Sì, è capito, però fai tipo 6k live. No, lo so. Potrebbe essere... Potrebbe essere... Un mese esce di testa, scusami. Minchia, allora fra una settimana lo vedi su TikTok. Grazie per la donazione. Grazie per la donazione. Ovviamente. Non so se è la consistenza di farlo, bro. Noi ti romperesti le palle dopo 20 minuti. No, per la prima volta mi divertirei. Gang gang. Gang gang, esatto. Poi ti devi scegliere il personaggio, il po' roleplay. Sì. Ma scusa, puoi farlo con l'IA a sto punto, no? Ce l'ho. Ah, appunto. Tu hai fatto la roba con l'IA, fai l'IA che ogni donazione fa una roba. No, ma lo voglio farlo io. Ah, va bene. È una roba nuova per me. È una nuova venture da antroponeur. Thank you for me, bro, this. Thank you for the roses. I love roses. Gang gang. Gang gang, gang gang. Poi tu lo guardi e tipo non capisci e continua a guardarlo perché è una roba così assurda. E lo fa anche bene in realtà. Tu lo fai, è brava. E quindi dici, minchia, sono sette ore che stanno andando. Cosa vuol dire, è brava? Bro, che non spezza il personaggio. Va ore, ore, ore a far questa cosa qui. Ma non credo ci voglia troppo. A me è merititazione. No, secondo me non è così facile. Ma va, ti fai un... È laureata in teatro. Ti fai un partner, un partner, se c'è un pattern di movimenti lo ripeti. Bro, per sette ore di fila. Ma che si drogano? Vali si microdosa la cocaina prima di iniziare, tipo. Che microdosa la cocaina? È una roba reale. Si fa. Pensate a far vedere... Ma voi pensate che internet siete voi. In realtà ci sono tutti i bambini, i grandi. No, no, infatti è quello che diceva lui, che è arrivato all'età in cui non... Sì, cioè io vedendo sta roba proprio ho detto ok, io non sto più capendo cos'è sta roba. No, uno, un bambino vede uno a persona vera che fa le cose che fanno i videogiochi e gli piace. È come andare a teatro a vedere un film, mica è la realtà. Ah, dici che non lo memano? Sono gente che fa l'attore. Non memano i spettatori. No, bro, praticamente recitano i videogiochi, fine. Eh, però non capisco perché, capito? Perché vai a vedere un film? Ho capito, ma come fai a paragonare quello a un film, capito? È la stessa cosa dei videogiochi. Secondo me non è tipo un contenuto che tu guardi e dici adesso voglio proprio vedere cosa dirà, la prossima frase qual è. È una roba che ti metti là e la mandi avanti. Però come videogiochi dai la rosa? Io do la rosa all'NPC e mi ringrazia. Però sono soldi veri, cazzo. Quando tu compri un videogioco sono soldi veri, vabbè, non tutti. Parole profonde. Ma minchia, è un centesimo una rosa. Un centesimo. È come il mendicante in Duomo, la mummi. Gang gang. È vero. Gang gang. Live, dal vivo, tipo ti metti in Duomo e fai l'NPC in cambio di... Eh, lo fai ora, si fa su internet, cosa cambia? No, vabbè, però penso che è figata vederlo dal vivo. No? Secondo te però questo è anche collegato al fatto che abbiamo tutti uno span d'attenzione mega basso. Inizio è... Che tipo ogni due secondi cambia roba, eccetera, perché ogni due secondi fa qualcosa, no? Ed è una roba che appunto è collegata, secondo voi, che non riusciamo più a guardare una roba che dura più di un minuto senza distrarci. Sì, ti dà ogni tre secondi, questa fa una mossa e tu dici figo, 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 e non smetti più, minchia. Oppure guardi OpenHimer al cinema. I ragazzini in ozio. È una roba... Oppure che su TikTok mi spezza quando fanno un video di qualcuno che parla e c'è un'altra metà che subo ai surfer, tipo c'è un gameplay di qualcosa, perché dicono, ok, la gente non segue più un cazzo, quindi faccio il video e poi accanto splitto lo schermo. Posso dirti che tu sei il Maria Sofia uomo? No, bro. Sei l'emblema delle mode ma non lo stai capendo. Cosa stai dicendo, bro? Inizia su che cazzi a parlare di quello? Ma c'è un insulto peggiore di questo, bro. L'hai ferito, l'hai ferito di brutto. Bro, tu parli male delle cose perché sei super conformista, bro. Ma non ho parlato male di sta roba, bro. Non ho parlato male di sta roba. No, però ne parli con aria da superiore? No, da aria che non capisco. Con l'out. Fammi un esempio pratico, bro. Però secondo me ti stai perdendo con l'evoluzione dell'internet. Ormai devi essere super veloce. Perché in me non durano più, ci hai fatto caso? Sì, è vero. L'internet sta cambiando troppo in fretta e nulla rimane. Ma voi vi mangereste i paccheri all'Alfredo? Cos'è? La salsa americana? No, no. No, alla Vittorio, scusatemi. Quali sono? Praticamente c'è questo ristorante che ha pasta al pomodoro. lo fa con l'aglio. Ok. Poi mette tre pomodori diversi e la pumarova a fare il sugo. Lo lascia andare. Poi prende tutto, tutto il sugo con tutti i pomodori. Lo frulla. Lo filtra. Lo rimette nella pentola. Ci mette la pasta e lo mantica con tutto il parmigiano. Vabbè, una pasta al pomodoro. Eh, ma è una pasta al pomodoro alla Vittorio. Ma poi dovete essere uscita sta roba. Vittorio? Chi è Vittorio? Quello della pasta. Chi è? È il nuovo donato Mollicca? No, è un tre stelle Michelin. Ah, è uno serio lui? Io mangerei la pasta alla Vittorio, sì. Però la cosa figa è che le cose tre stelle Michelin Ma cosa sta blatterando questo uomo? Cosa sta dicendo? Is up to nothing. Ah, io ti lascio cucinare però. I piatti, quelli super studiati dei bisturanti di tre serie non è che ti metti a farli a casa però la pasta al pomodoro alla Vittorio sta fico. Quindi la versione stellata della pasta la pasta alla Vittorio. L'ho vista. Dove? Ah, sul web. La pasta alla Vittorio. I paccheri alla Vittorio. Posso dire che, boh, ma tu ci sei mai stato uno stellato? Boh? Come boh? Non sai se sei mai stato uno stellato? Che vuol dire? Minchia soldi. No, che ne so. Ma sì, dai. Ma lo sai se sei stato uno stellato, però. Sì. Vabbè, siamo stati da cracco. Ma non è uno stellato, cracco. Certo che uno stellato, sì. Ma uno non era una cena da stellato perché era un menù fisso. No, lo so. Però io le... Com'è che si chiamano? Le ostrichette che posso... Le ostriche pure me le ricordo ancora. Sì, ma non è una roba che... Cioè, la ostrica la posso comprare anch'io e dartela se prendo un'ostrica da 30 euro. È un'ostrica buona, però, quella. Era la prima volta che mangio le ostriche. Quella roba lì non dà lo stellato a un ristorante. Ma lo so, io non l'ho mai mangiato da cracco. Però, in generale, mi ha mangiato nei ristorantini, quelli con le porzioncine mini, venti portate. Cosa ne pensi? A me mi sembra sembrata una merda quella cosa lì, sinceramente. Ma bro, ma come fai se è una merda? Mi sembra overpriced. Ma che cazzo dici? Perché dico... Cioè, tu mi fai il piattino con la minchiatina... A parte che... E sì, puoi dire, no, ma tipo l'esperienza, lo studio... A parte che ti si vede la tovaglia dello stellato. Allo stellato mangio un botto. Cioè, sono piccole cose, ma sono un botto e sono un sacco di... Allora, ho una cosa da dire che contro questi ristoranti del cazzo... Non mi puoi far pagare 120 euro perché il cameriere arriva e dice ah, ma questo Grissino è del frantoio Olivasteri, un grande frantoio della zona che è la sua filosofia... Che cazzo me ne frega, è un cazzo di Grissino! E deve essere buono! Ma no, ma tutte le stesse cose. Alcune volte è tutto marketing di merda, E' tanto pretenzioso. Sì, magari capi una cucchiata di burro da una roba e fanno tutta la scenetta così... Cioè, tu il cameriere ti fa il racconto, ma alla fine è una cazzata. Allora, a me piace... Qualcuno metta il silenzioso. A me piace perché mangi cose che... Tipo, diresti, ah, davvero sta roba sta bene con quest'altra roba? La provi e dici, spacca. Però 200 euro. No, provalo una volta, provalo, e poi giudicalo. Cioè, proprio come quello... Però, ma lui partirebbe da prevenuto. Sì, ma capito. È quello che non prova le cose e poi dice... È impossibile. Ed ecco un altro punto debole. La chiusura mentale. La chiusura mentale. I paraocchi, di Ogane. I paraocchi. Ho visto troppi TikTok in cui c'è il minchione che arriva con tipo la schiuma e fa tipo tutte le stesse situe e ti dice questo è il dessert, e tu dici... Bro, quello però l'hai visto su TikTok. È il ristorante stellato da TikTok. Lui pensa che i ristoranti stellati fa... È quello che fa... E' quello che fa... Quello che ti butta il sale così. Fanno vedere il Kinder Pinguio e fanno questa è una matriciana... Bro, le tente, capito? Girano lo spaghettino nel cucchiare e fanno, beh, sì, come diceva lui, questo è uno spaghetto di miei 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 miei. Sì, ma ci sono alcune che sono scamme, ma quegli stellati sono stellati. Guarda il video del Maseco Franchino e il criminale e poi ti richiederai. Non lo guarderò. Guarda il video di Ciccio Gamer che recensisce gli stellati, Dio. Quello li guarda di giù. Fa troppo ridere. Vado a uno stellato, che probabilmente sarà comunque buono, immagino, e fa... Il pane era fermo con la maglietta dei lama di Fortnite, tra l'altro. Questa roba è una merda, insomma, scitta sul ristorante di brutto. Il video subito dopo era sponsorizzato dal Burger King. Lui che va al Burger King, però il panino fa che buono questo panino! E te credo. Posso dire una cosa bruttissima? Che dopo ho... Ho raffinato un po' il mio palato culinario ed è una merda perché se rimanevo al gusto del kebab dicevo è tutto buonissimo. È tutto buono. Invece ora riesco a capire i sapori. E ora non sai se sei uno stellato oppure no. No, non mi piace questa cosa. Preferivo rimanere nella mia ignoranza culinaria. E invece? Perché così spendevo molti meno soldi. Invece adesso dico ah, ma quello è un tonno un attimo più. Hanno messo la salsina per coprire che non è fresca. Invece prima dicevo che buona sta salsina ho. E via, tipo Anaschie con spargito di salsa. Cioè, arriva una fase dell'età in cui non si sa quando succede i tuoi amici magari dicono andiamo a mangiare una pizza e un tempo andava bene qualsiasi cosa e invece poi diventano ah, ma andiamo in quella pizzeria perché quello non va più bene la pizzeria del kebabbaro. Capito? Non so quando succede. A un certo punto succede dopo i 24 anni in cui i tuoi amici diventano tipo tra una pizza e il kebab e una pizza buona tipo con la bufala per dire. Ma tra l'altro ci sto a far caso adesso. Nessun quarantenne mangia kebab. Solo se sono disperati, tipo. Io negli kebab non ho mai visto tipo il padre di famiglia che si va a mangiare un kebab. Ah, perché allora in cui ci vai tu ovviamente dormono i padri di famiglia. Alle 4 del mattino non ci sono non c'è gente in giacchia a cravatta. Perché tuo padre ti ha mai detto oh, stasera mangiamo kebab figlio mio. Sì. Sì. Dalle piramidi. Vabbè, a me... Che sono le piramidi, scusi? Quelle cose... Una pizzeria kebab vicino... Ti sta cadendo tutto. Ecco... Che consiglio? Le piramidi? Le piramidi a Roma? Solo per il nome ci sta. Si chiama tutte Bella Vista a Milano. Sì, ovviamente. E hai ragione, Bruno. Ma in realtà è vero. Ma perché secondo me loro hanno quella roba kebab, no? Cos'è, capito? Che carne c'è? Invece il ragazzino che cazzo gli infrega dice 4 euro, epico. E finisce lì. Non ho mai pensato al cibo in vita mia. Ma penso che non ci pensano nemmeno mai. Ma io non faccio caso al gusto quando mangio. Ma questa è un po' una cazzata. Fai caso, scusa. Ai colori. Allora, partiamo dal fatto che io... Come Filippo Champagne dove vado a bere dopo che ingerisco questa cosa? Magari è una carbonata che andiamo a far ballare quei soldi. Quel solito bicchierone di gin. No, è che io quando mangio a me piace tipo mangio a diversi gusti però mai affiliati l'uno con l'altro. Tipo oggi sono andato all'Eurospin oggi sono andato all'Eurospin e ho comprato tipo un'insalata di mare del riso freddo poi della stracciatella e delle patate al forno, capito? Ah, proprio a casa. Fate le tè che sono più buone, no? Ma che? Queste cose? Le patate al forno? Ma se spendo 2 euro all'Eurospin è già fatto. Vedi, però Andre non farbbe male a spesa all'Eurospin. Ma se prendi e spendi 20 centesimi di patate e te le fai al forno. No, ma significa che devo spendere 2 euro di patate e butta il resto perché non le mangerò mai. Io non sono per gli sprechi, Andrea. È il tempo di fare. Non le mangiare le patate. No, ma mi... Io non andrei mai all'Eurospin. Ma sai che cosa stai dicendo? Cioè, Andre ormai è quello che va tipo da... Ma neanche Lorenzo, secondo me. Sì, io ho una roba... Io mi ricordo di una cosa... Loro due sono tipo da Natura, bio... Neanche dall'MD, Andre Imaio, dalla Lidl. Allora, io mi ricordo è una conversazione che abbiamo avuto. Però devi tornare con i piedi per terra. Devi tornare con i piedi per terra. No, però mi piace andare al supermercato perché per me è un viaggio tra il marketing... Tra i sapori. Tra i sapori, vedere tutte le cose. All'esse lunga. Tu vai in quei supermercati verdi, tipo chiamati bio qualcosa, vero, in cui tipo una lattuga che costa 6 euro. Darka Planet. Chiaro che è lattuga. Chiaro che è lattuga. Darka Planet. Le piramidi. Con gli ossi di pollo. Dal bio Zebon. Eh, capito? Tu vai in quei posti lì, palese. No? Mi ricordo una conversazione... Cioè, una roba che mi avevi detto una volta e mi avevi detto che tipo io facevo il cazzo che volevo... Non mi ricordo cosa. Io facevo il cazzo che volevo perché ero un borghese. Tu? Sì. No. E io mi ricordo di averti risposto ma tu fai la stessa roba e tu fai... Anch'io sono un borghese, infatti. E io... Mi è venuta in mente adesso perché in effetti ci ho pensato e forse ne ho parlato con te. Cioè, tipo io alla Lidl ci sono andato tre volte nella mia vita, forse. Cioè, com'è possibile? Non riesco a capire... Io non ce l'ho vicino a casa. Fare spesa all'estero che ti distrugge con le mecanismi. Vabbè non è che... La Lidl c'ha le settimane esotiche. Anche al Carrefour. Ma che cazzo dici? Ma chi è che fa spesa al Carrefour? Ma a parte quello, ma chi è che... Cioè, costa una valanga, bro. Il Lidl invece c'è solo il Carrefour di fianco a casa. Ma che spese fai? Che hai bisogno di andare al Carrefour. Cosa vuoi? Ma cosa vuol dire? Scusa, tu che spese fai che bisogna andare ad Aldi? Io compro le cose basiche proprio. La cosa più esotica, cioè, più complicata che compro è tipo il coso di Ceci, l'hummus. Che è buonissimo al Lidl. Sì, sì, è fuoco, è fuoco. No, ma io semplicemente a Como, in centro, cioè non c'è la Lidl. E ora che è venuto a Milano in centro non c'è ancora la Lidl. È perseguitato dalla sfiga. Si vede come... Ma no, non può parlare da questo punto di vista. Sto solo dicendo che è così. Cioè, non è che ho fatto apposta. Allora, io farei uno speciale. Anche a Roma Nord c'è la Lidl, ma ti pare? Certo. No, no, non c'è neanche l'S lunga, il Carrefour. C'è la Lidl che costa a Roma Nord? C'è la GS, il Conad. Ah, il Conad costa tanto, eh? Comunque faremo uno spin-off speciale e andiamo tutti a cena in un posto dove costa poco e faremo la recensione pulinaria per la prima volta. Ah, ok. Ma tipo al butone retroccolo a Milano? No, in un posto che a me piace. Fa schifo il butone. Da pizza a pezzi. Sì, sì, andiamo da pizza a pezzi. Ma perché si chiama così? Anche prima l'hai proposto e ho pensato... Pizza e pezzi. Perché costa poco e ci sono dei piatti. No, no, il tuo costa poco, bro. Non è il mio costa poco. Io mi ricordo una volta andiamo a cena una volta. Cosa mangiamo? Ah, un hamburger così carino. Io un po' ingenuo, capito? e ho pensato, vabbè... Manas, ma hai traumi. Bro, ho speso 40 euro per un hamburger e stavo male. E delle patate al tartufo. Non ho ancora recuperato economicamente. Non accettare. Ma nella mia testa un amico quando mi invita... E lì dicevi 40 euro. No, perché anche l'ho... Avevo già mangiato, bro. Avete già mangiato? Ho già mangiato. E comunque quando l'amico ti invita tendenzialmente siete sullo stesso livello. Ma poi tu zio non hai speso 40 euro perché le patate al tartufo mi ricordo te le offerte 5 euro per un hamburger meat. Tu hai speso tipo 25. No, no, no. Ha speso più di 30 euro, bro. Perché io mi sono sentito in colpa e ho detto ti offro le patate al tartufo. Sì, ho fatto le patate al tartufo. Ma ieri siamo andati in un ristorante napoletano e io, Diego e Nello e il prezzo era... e altri due amici e il prezzo era tipo 127 euro e il tipo... In tre, in cinque? In cinque. In cinque. E no, prezzo a caso e il tipo fa vabbè dai, facciamo 130. Minchia. Ma perché? Aveva proprio quell'accento. È perché pari. 130 è pari. Lo capisco, non andrò a mentire e lo capisco. E io mi siamo guardati ma vabbè era 60-70 centesimi in più a testa. Ma c'è ma... Di solito ti fanno uno sconto che ti alzano il prezzo. Come nevi lo stirato. Ti devo tre milioni, dammene due, facciano cinque. Adesso mi hai fatto venire in mente i terroni di... Minchia. Altra roba da censurare. Ci fate caso quando andate tipo nel sud che i ristoranti sono gratis. Non lo so, zio. I ristoranti sono gratis. Perché il cibo costa così poco abituati a Milano che dici ma sì, prendo primo o secondo dolce e spendi 15 euro. Che sogno. No, ne ho sempre sentito parlare ma non ho mai vissuto questa roba. Non sei mai stato... No, bro. Vabbè, quando vai in Marocco tu magari. Dimmi cosa hai visto l'Italia. pochissimo, zio. Cioè, davvero ho visto Pavia ho visto Verona solo dove doveva scopare ha visto, praticamente. Un giorno portiamolo più vicino alle sue terri. È una roba mica razzista ma peraltro mentalmente è strarazzista. Riportiamolo. Portiamolo. Partiamolo al Marocco. I tre bianchi. I siciliani sono marocchini. Sì, sono similissimi. Ma poi mentalmente sono più marocchini. Penso in Italia del palermitano. Qual è il posto più a sud in cui siete stati? Scusate, già che stiamo facendo del... Siracusa? O forse anche più giù? Ah, tu mega in giù quindi. Forse le punte della Puglia. Io penso tipo a... Istanbul. È giù, no? Se tu fai così è... No, perché io ci pensavo che sono andato da piccolo, piccolo, piccolo tipo verso Lecce e poi sotto Napoli non sono mai stato praticamente. Non hai mai visto la Puglia, la Sicilia? Eh, Lecce da piccolo. Vado io. Ho visto Lecce da piccolo, ho visto... Boh, basta tipo. Cioè non sono mai stato in Sicilia, non sono mai stato in Calabria, non sono... Alla fine siamo tutti italiani, tutto il mondo è paese. Minchia, questa è una cazzata assurda. È proprio una cazzata. Tutto il mondo è paese. Io parlavo con Paolo che è un nostro amico siciliano e parlandoci... E ogni tanto parlando con lui tipo noi magari raccontiamo le nostre esperienze di gioventù e lui racconta le sue da siracusano e dico ma dove cazzo hai vissuto bro? Cioè sono proprio troppo diverse. Con questa gente non puoi lamentarti, dici minchia ho preso un appuntamento al comune devo aspettare due mesi e sempre il tuo amico del sud ti dirà ma il tuo amico ti dirà quello del sud ti dirà bro ma lascia stare già un sogno, due mesi io al sud minchia un anno non ce l'ho il comune è sempre tipo una lamentela eh bro ma devo fare questa cosa qua no bro ma il sud guarda sta roba dici minchia bro non so quindi we are not the same questo è quello che eh sì sì cerchiamo di dire senso non lo da come ne sento parlare mi sembra che tipo sia buono per il cibo eccetera ma che tutto il resto sia indietro da gente del sud non saprei dipende dipende dai posti perché se tu vai in Sicilia e vai che ne so a Catania anche in Sardegna ho mangiato molto bene caso Marzo non è non è terrona così tanto come magari se vai in entroterra capito là è allora diventa dove sparati su in Sicilia tipo i cartelli sparati queste cose qua ah sì ah minchia è come in Sardegna mi sento un idiota io capito i rapper del sud gli emergenti del sud mi fanno spesso ridere perché nei commenti quando c'è una canzone scrivono voi non siete criminali scendete al sud e vedrete c'è sempre questo commento da qualche parte dici i rapper hanno un po' rotto i coglioni uh perché basta sono tutti vecchi anche i giovani anche i giovani sono vecchi il sound è vecchio sono tutti vecchi omologati tutti che fanno la stessa cosa parlare di più cioè in che senso fanno la stessa roba anche parlare del rap che due coglioni basta un anno due anni non quindici vent'anni cosa vorreste ascoltare bro sto ascoltando baby gang king però non me ne frega niente cioè dico lo ascolto non è che perché fai il suo fa il suo ti ci rivedi nelle viriche che è l'unico un po' diverso poi se tu pensi qual è la canzone che ascolti di più di baby gang toni montana quella con gue quella con gue pensavo a una roba tipo marocchino capito mentalite mentalite sì mentalite è bello e cosa provi quando l'ascolti dici no l'ascolto in macchina non nella mia perché non ce l'ho a me piace quella con l'azzo anche se sono un hater un po' di l'azzo il problema del rap in Italia è che effettivamente sono sempre gli stessi sei ripetuti in ogni cosa in ogni album poi il povero Sfera e Basta deve stare in tutti gli album è vero poi quante canzoni sono uscite quest'estate dio caro 8 miliardi di canzoni featuring Sfera e Basta e Capo Plaza Giaulier e Lazza tipo sì però è vero ho letto che Sfera nei dischi dove partecipa la canzone con Sfera è sempre la più ascoltata 100% delle volte lo siamo statisticamente possono tutti togliere il cazzo di Sfera dalla loro bocca tipo non puoi criticarlo Kid Yugi mi piace ci sbarca secondo voi ce li vedete tipo Shiva Baby Gang a 50 anni come Gue che sono rispettati tutti come quelli che lo facevano una volta ma se continuano così no secondo me sì bro col tempo col tempo anche se continuano così all'inizio a parte all'inizio uno faceva così dice ah la gang ma perché c'era ignoranza diceva magari è vero ma ora fare crew Milano yes ang pupu cosa vuol dire adesso è un po' una bumerata sto discorso però paradossalmente ora invece sono tutti hanno perso la testa e girano tutti coi ferri tipo ma sì per fare impazziti di brutto beh che prima era un po' cioè prima cosa c'era bro la Dark Polo Gang tipo l'FSK che erano mezzi meme mezzi così che tipo escoltavi le barre ridevi perché dicevi no vabbè ha detto i miei gioielli hanno l'IDS eccetera barre vere Lazza ha sconfitto il meme nel rap ha sconfitto i meme su Lazza Lazza dovremmo fare un altro di meme su Lazza e tipo farlo stare male ancora non dire più che mini Lazza ma qualcos'altro hai visto i miei guardi i ragazzini che lo chiamavano proprio mini Lazza in strada l'avvio sì non l'hai mai visto in strada dove lui si incazza e la gente tipo i ragazzini gli urlano mini Lazza e lui cosa diceva tipo vaffanculo si gira e lui li guardava così faceva io vi ammazzo mi fa troppo ridere l'idea che si triggerava per sta roba capito c'è troppo ridere anche Rondo si è triggerato non so se avete visto poco tempo fa se seguite Rondo non lo so ha fatto una storia schermonello classica storia schermonello scritta bianca con scritto I hate memes dei sac I literally hate memes o qualcosa del genere ma è troppo il meme supremo sta roba cioè farla stare dicendo che odi meme è di per sé un meme ma poi non hanno nemmeno fatto dei meme brutti Rondo il bis lungo no io mi ricordo uno dei migliori meme appunto era quello ma lo dico ogni volta era quello di Emi Schilla così e tutte le cose contro sul fatto che lui picchia le donne quando ogni ragazza parla quando la Fiorentina perde non lui si è mai incazzata per questo oppure se la prendeva bene secondo me non ne ha mai parlato non l'ha mai capito lui guardava cosa vuol dire tipo i genitori quando guardano meme cosa c'entra l'immagine con questa test anche Jamie Tice era super memeato una volta adesso non lo memeano più minchia misunderstood e il meme di Jamie Tice era quello che aveva detto eh? ah ok si che attacca gli altri e poi odiava che lui venisse chiamato Jamie Tice io mi ricordo un racconto io oramai sono l'uomo dei racconti di tu al ristorante forse con Diego che litigate con un tipo del talo di fianco e lui si alza viene da voi tipo vi fa brutto e poi ti fa tipo ma vattene affanculo Jamie Tice tu hai detto che al sushi assurdo al sushi Diego fumava è perché stavamo effettivamente fuori cioè stavamo lì fuori Diego fumava una certa questo qua mentre stavamo passeggiando andavvia ci ferma e fa comunque dovete chiedere scusa perché Diego fumava là e a lui gli dava fastidio e Diego gli fa ma che boh c'era il posacenere sul tavolo ho fumato e abbiamo iniziato a discutere una certa cosa mi ha fatto minchia se già mi tazzo bello forte cosa risponde mi sono messo strarite davanti a lui ho guardato Diego ho fatto bombiamo via non so non so che altro fare non abbiamo fatto niente tagliate i capelli che hai detto? tagliate i capelli hai detto no tagliate i capelli dovevi dirgli cos'è tagliate i capelli? stai zitto sembrano incantesi come stai zitto? mi hanno insegnato a Ceres Andre tu hai mai fatto del male a qualcuno? hai mai voluto picchiare qualcuno? tipo quel tipo di mother fucker che dice io con le parole ti ammazzo i miei pugni non saranno forti ma con le parole faccio malissimo nei tornini quando a calcetto quando giocavo a calcetto tipo ti incazzavi? a Sanremo ero live con Chris ok e Luis e andiamo a ballare al Morgana e io ero lì con Chris che me la cillavo erano lì c'era l'entourage di Sanremo bla bla bro e passa uno e faccio spacco la faccia ma uno che grosso e questo qua si impanica va da Chris fa bro calma il tuo amico che mi vuole picchiare ho paura mica ci ha creduto di più perché tu gliel'hai dato? perché era uno scherzo con Chris questo passava così lo guardo e faccio spacco la faccia e posso raccontare invece un'altra cosa di Sanremo che mi hai ricordato? c'era questo racconto molto simpatico dove eravamo ubriachissimi a Sanremo un po' di anni fa a ballare al Morgana sempre e oggi stava tutto ubriaco e voleva ballare con sta ragazza e sta ragazza ci stava quindi Omi la prendeva per la mano gli faceva fare i balli ho visto il tiktok con un maledetto gentleman ok però sta tipa c'aveva un tipo no e questo qua l'ho fissata lontano e vedeva che Omi comunque prendeva la tipa e ballava con lei gli si è girato il culo in una certa vedo che lui inizia a correre verso Omi come fai è brutto metto tra di loro che avevo vissuto la scena e faccio che fai? mi fa eh no quello sta parlando con la mia ragazza adesso ci do litigare no no litiga con me vieni fuori no vabbè che amico che amico lo porto fuori e inizia a parlare parlava romano e mi fa ma dove sei? faccio io vivo qua io vivo invece qua ma che conosci questo? sì ah grande e nel frattempo lui si faceva la tipa e lui intanto stava dentro non aveva seguito la cosa e niente abitava molto vicino a casa mia a Borghesiana a Roma e conosceva un po' le gente in comune sei un amico della Madonna bro che hai fatto e tu eri totalmente tra l'altro si è distratto non ha più pensato alla sua dire non ha più controllato mi sa che non gliene fregava veramente nulla sai che mi è comparso un video bro di te su youtube che mi ha fatto troppo ridere era vecchissimo e c'è qualcuno che non so ti tocca o qualcosa del genere e tu li fai e ti giuro non ho capito forse i rubriaco li fai straserio combattiamo combattiamo ah sì no ma non voglio non voglio litigare e tu fai no no dai combattiamo quel ragazzino ha beccato un parenti troppo ubriaco e io ho detto cosa hai fatto bro sembrava che avessi bisogno della conferma tipo in un videogioco per poterlo sfondare era piccolo ah ci avrei avuto tipo 18 anni tipo era piccolo io ce ne avevo 23 ok e mentre stavo al bancone mi dava uno schifo cioè poi mi fa oh bella mi fa così sulla testa oh mi ha fatto incazzare proprio sai quando ti fa incazzare tanto una cosa sì sì mi sono giro e ho fatto che cazzo fai oh tranquillo e mi ha detto beh combattiamo ma non c'è chiauccio ma non mi ha detto adesso ti ammazzo le botte andiamo fuori al parcheggio e combattiamo ma io ho fatto kick allora ma è ancora meglio usciamo e combattiamo e davanti al parcheggio ho fatto dai se vuoi litighiamo alla fine andate a scemare non abbiamo litigato bro ma fa paura cioè se dovessi fare una roba del genere un uomo mi guarda e fa combattiamo io dico questo non volevo tipo litigare fa cazzotti era tipo una roba no bro accettiamo di combattere e combattiamo come risolviamo le cose a mani ma con coscienza due uomini decidono che faranno questa cosa insieme no perché se uno ti dice così tu dici questo è pronto a morire non te l'accogli non so dove ero dove eravamo a Rimini eravate tipo a Riccione mi ricordo io che era a quella vacanza dove c'era anche Tiz era lui era a quella vacanza con i Quilini mi hai fatto ridere sono pentito quando ho rivisto il video io invece ho visto io mi ricordo una scena io e te fuori dal rocket che stavamo rientrando siamo usciti a pisciare stavamo rientrando e c'era un tipo che ubriaco che litigava con il buttafuori e noi andavamo sempre lì quindi conoscevamo tutti ti compro lo cane no e il tipo faceva fatemi entrare no no il buttafuori non devi rompere i coglioni guarda che qua finisce male fai meglio ad andartene questo continuava 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 a una certa mi ricordo che tu lo guardi e gli fai oh frate hai proprio rotto il cazzo ti devi arrivare dai coglioni lui si gira e tipo fa così e tu fai oh e il buttafuori arriva e fa ma che cazzo fai tu e ti guarda perché erano cioè tipo amici e fa oh Andrea ma che cazzo fai e tu fai scudami scudami è stata una scena assurda minchia ma i buttafuori sono assurdi in generale perché sono sempre così nervosi vabbè e i bro che lavorano la cocaina e fanno i baby sister microdossano la cocaina ma cioè tipo state calmi capito c'hanno sempre sta roba tipo ecco il buttafuori classe è vero dimitri chissà quanto è alto buttafuori però semplicemente è che ci hanno uno glielo del culo a sta là vede tutti ubriachi quindi sei nervoso di base non scillerei mai in discoteca a lavorare a vedere quelli che fanno cose cioè gli ubriaconi i coglioni sterei nervoso appena entro vero quindi è normale che un po' ti nervosisci però ci stanno anche buttafuori buttafuori e sta il buttafuori onesto ci sta anche quello invece alza le mani che dice ma sono grosso e vado a casa col mio ego bello carico ci sono anche quelli finti empatici che dicono minchia io ti farai entrare ma veramente da un posto come hai visto quel tiktoker su tiktoker l'ho visto di brut l'ho visto di brut che fa un po' troppo quel filtro la prima volta faceva ridere praticamente è sto qua che usa sto filtro da neandertal e c'è lui che interpreta il personaggio di buttafuori e tutto il coso sarebbe lui che fa finta di essere un buttafuori ed è tipo io lavoro da ho 50 anni e lavoro in suo mestiere da 60 anni se tipo tre tiktoker al giorno non avrà affatti un centinaio e tutte le frasi sono io ti farei entrare ma le direttive dicono di no poi dice io ho 55 anni faccio il buttafuori da 86 inizia tutti i tiktok fare l'amore contese però ci stanno no però il problema è che sono quei nuovi content creator che hanno una frase e devono usarla e stuprarla fino a che non muoiono come se lo slogan tipo con mollica o senza questo però mollica o senza si è aperto ma lui ha rivoluzionato lui però è arrivato a una cosa estrema non so ecco lì è un'altra cosa di non con odio ma veramente non riesco a capire l'appeal tipo anche quella che su tiktok mette le cover nei telefoni mette tipo la plastichina 5 milioni di like a smr ma sono napoletani ma tu guarda quelli che fanno che guardano il telefono lo toccano e fanno si maria fammi la pasta sì sì caro vengo da napoli sì 183 rosso cioè rispondono alle cose a casa e tu li guardi hanno 4 mila spettatori ma non avete paura di cosa come nel senso come sarà il nostro umorismo fra dieci anni oppure tipo la generazione appunto così da NPC come cazzo sarà meglio che cazzo ne frega immagino sti qua bro che sono lì a fare le cose d'avvocato e c'hanno su voice surfer qui per poter il cururgo che ti opera nel frattempo c'è un gameplay di GTA 5 per non distrarsi vabbè se lo fa bene ah no infatti non mi lamento dico solo il curio c'è tipo i tiktok kid quando avranno tipo 30 anni sono due tipologie di persone differenti però tipo adesso tutti i ragazzini sono così no cioè a un certo punto cresceranno e comunque capiranno eh ma sono cresciuti con un certo tipo di umorismo stile e robe ma guarda che il cervello ha una certa c'è arriva a un limite e si resetta voi l'avete avuto quel giorno in cui siete avete fatto tipo sono sveglio tipo a 25 anni succede no spiegami questa sensazione e che a un certo punto ti svegli e capisci tipo che non capisci la tua vita che diventi adulto bro i colori diventano meno contrastati cioè non so spiegare ti svegli ed è tutto più grigio e dici ah capisco la vita e sei preso male non lo so io ce l'ho step nella vita tipo quando le canne hanno iniziato a farmi unire l'ansia ah gli ho detto damn adesso invece ce l'ho col fisico e dico cazzo mi alzo più di una volta che fiscia durante la notte cioè tipo vabbè quello è normale però il peso eh fino adesso no beh dipende anche se bevi tantà vabbè te perché bevi un litro prima di andare a dormire però non ti viene che devi fare tanto pipì e dici ottio sto scoppiando la sensazione è diventata diversa bro sarà che c'è un tumore alla prostata e ne sono convinto però posso dire una roba perché perché pannoloni per adulti cioè quante volte effettivamente succede che tu vai a letto appena ti sistemi devi pisciare dici porca troia bro ma è pannoloni da anziani ma sono una svolta zio ma fra ma come sei arrivato a questo punto immagino a bianca alla fidanzata nudo con il pannolone pisci scoletta caga fa il guano ma che bellezza dammi un abbraccio così con sto pannolone gigantesco scusami scusami tu pisci e poi ti devi togliere comunque il pannolone fai un po' di borotata il colettino rosso il bepante nel culo e adesso sono pronto ma perché fate finta che non sia perché fate finta che non sia una svolta no ma pensa che tu sei pisci e cagli e poi ti va ripisciato cacacu e poi ti svegli e ti lavi tutto incrostato ti svegli in studio reale sì però ma non ti alzi tipo le tre del mattino sei lì e dici cago a letto in realtà bro il trick finale non è avere il pannolone ma è evolverci e smettere di usare i materassi come come spot per dormire una vasca morbida fra immagino che cagli nella vasca cosa vuol dire sì un letto fatto apposta che se pisci dreina tutto giù e invece stiamo ancora dormendo sulla paglia tu ce l'hai questa narrativa dei materassi voi non mi state rendendo conto che dormiamo ancora con dei problemi che sono il non sai quale posizione ottenere perché sei scomodo tutta la notte non puoi pisciarti e cagarti addosso questa me l'hai fatta pensare adesso quando non è perfetto zio non c'è bisogno di tutta sta roba cioè sì c'è il lato invernale e il lato estivo ma che cazzo è quello è vero siamo nel passato siamo dei neandertal del cazzo con gli strumenti basici come le forchette il coltello vero zio e gli indumenti bro dimmi di più esistono ancora gli indumenti per l'estate per l'inverno non ce ne sta uno tipo che fa entrambe le cose e quando è estate fa freddo questi pantaloni tecnici no no certo è vero è vero è vero è vero effettivamente ambivalente bro stiamo concentrando troppo su qual è la miglior qual è il miglior modo per videochiamare mio fratello dall'altra parte del mondo oppure i sex toys super avanzati è una roba che dici boh per effettivamente robe il cucchiaio tipo dici boh bisogna concentrarci su questo dire una cosa però mangereste mai la pasta viviamo in un mondo troppo tutte queste cose qua questi discorsi ci hanno dato alla testa perché non abbiamo dei veri problemi nella società siamo troppo privilegiati siamo troppo giusti non siamo a livello 6 ma non siamo neanche a livello 2 siamo a livello 5 e mezzo quindi devo trasferirmi in Africa al terzo mondo e potrei parlare i discorsi sono diversi è tipo cazzo voglio smettere di farmi 4 km per bere l'acqua quelli sono cose e non stiamo più pensando alle cose wow tipo allo star bene con gli altri a far andare avanti questo paese o il mondo anziché pensare a dove cacare e da lì però che parte che sposa è più sereno quando ti svegliere la mattina e noi poi pensiamo alla pasta all'Alfreda alla Vittorio hai visto Elon Musk che cambia il nome di Twitter minchia un 360 un po' un po' crazy sta roba cancellato la lavagna è la società che si gira in Africa siccome sono felicissimi siccome sono mega contenti siccome noi siamo molto più tristi delle tribù in Africa non sanno cosa è Napoli è normale che sono felici dovremmo iniziare tutti a non pensare a come penso a farli vedere un TikTok degli NPC a un africano o in tribù se la ride secondo me però siccome si è urlare dobbiamo iniziare a smettere di pensare a noi stessi e iniziare a pensare alla collettività è l'occidente che ha fallito è un sistema basato sul successo individuale è l'occidente che ha fallito è il marketing dell'individuo guarda tipo in Asia come funziona infatti io un giorno bro l'ho sempre detto dammi dei soldi infatti vorrei andare a vivere tipo in Romania io è come Andrew Tate beh comunque l'occidente è la Romania uno per questo discorso è per non subire il il razzismo degli asiatici vi faccio tipo gli occhi a mandor esteticamente ce le faccio chirurgia e poi vado con gli occhi azzurri sono contento che gli asiatici siano razzisti mi coloro di giallo mi sento speciale il cappello a triangoli e baffi così lunghi e mi chiamo Ping cosa vuol dire sono contento che siamo Ping c'è un carretto tipo Ping io mi sono perso la loro fan però era sì sì è come vado a vivere in Messico il poncio per commuffarmi con la gente come vedi in Italia metterti il cappello da chef e i baffi rotondi esatto se voi non se ne accorge nessuno madonna fa morire perché lo stereotipo estremo di ogni paese non rappresenta assolutamente cioè se tu andassi in Cina con qualcosa così ai baffi il cinese base mi rappresenta l'americano è proprio l'americano l'americano è il ciccione biondo sulla sua jeep con scritto I love America davvero così lì però qual è secondo voi un siamo comandati dai più quelli che sono più pazzi più indietro più razzisti cioè gli americani sì gli americani sono i bulli del mondo però a me mi piace un sacco Donald Trump oh perché ti piace Donald Trump perché è simpatico perché è simpatico è simpatico ti piace più di Biden beh cento volte di più rispetto a Biden è tutto scemo eh sì è Sleepy Joe se lo chiamano ma pensi sia un pedofilo Biden ogni tanto vedo se compilessi ma nel suo privato farà quello che vuole finché non lo fa finché lo fa a casa sua facendo un video che sniffa le bambine cioè assurde davvero creepy va là e fa ma perché non capisce niente bro l'hai visto è geriatrico non sa dover camminare sui palchi ti immagini chissà cosa hai visto il video di lui che si gira e saluta il nulla l'hai visto tu secondo me è telecomandatore cioè tipo un è un cadavere che hanno appiccicato delle cose sono due bambini dentro a un costume non lo so c'è qualcosa di strano sì anche io penso che sia telecomandato dagli illuminati dai poteri forti ci sarebbe una dittatura no penso che quello non possa fare il presidente degli Stati Uniti vabbè ma è chiaro che c'è qualcuno che decide stiamo andando Deep State tipo i rettiliani ma effettivamente il presidente degli Stati Uniti cosa fa rica la figurina eh basta fa la figurina delle lobby americane ma effettivamente la figurina di Stati Uniti e la figurina di Stati Uniti